Ben ritrovati amici rossoneri, come è stato? Un saluto a tutti, vi invito come sempre all'inizio di ogni video, lo sapete, a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi qui sul logo di Milanello e a scaricare gratuitamente l'app di numero 10 con tutte le notizie esclusive, calciomercato, live, tanti video, vediamo se oggi diamo l'ufficialità lì anche di The Kettler qui sotto basta cliccare e scrivete poi il vostro nome se l'avete scaricata perché uno di voi vincerà tra l'altro anche la maglia del Milan della prossima stagione ne assegneremo diverse, sto aspettando che mi arrivi allora ragazzi, ultimo remercato, oggi dovrebbe, sarà il giorno di The Kettler, un upgrade rispetto al video di questa mattina al Milan, dal Milan contano di chiudere l'affare entro oggi, quindi di non arrivare neanche a domani, sapete che era venerdì o sabato al Milan sperano di fare tutto entro oggi, sapete che poi domani il Milan partirà per l'Austria a quel punto il giocatore potrebbe raggiungere direttamente i compagni in Austria poi, anche se sarà appunto la prima amichevole fare le visite mediche lì oppure fare le visite mediche a Milano e raggiungere poi i compagni per questo raduno che durerà fino al 27 vediamo, oggi è una giornata davvero di adrenalina al 100%, ne abbiamo passate diverse però ecco, siamo qui ad arrivare appunto alla volatona finale che cosa manca? Oggi ci sarà un ulteriore, o magari c'è proprio nel corso di questo video un ulteriore contatto telefonico, non più fisico dopo il blitz di qualche giorno fa di Madine Massara Bruges telefonico per trovare la quadra, sentire la risposta del Bruges, provare a trovare la quadra se non c'è ancora con la percentuale sulla futura rivendita che come vi dicevo dall'inizio, confermata anche oggi da altri quotidiani è una questione molto importante con il Bruges che la vuole più alta e il Milan che la vuole tenere bassa entrambi, questo che cosa significa? che entrambi ritengono il giocatore dal futuro assicurato ad altissimi livelli e quindi ad altissime cifre sperando possa restare al Milan per diverso tempo De Kettler, giocatore che ormai conosciamo tutti che vuole soltanto al Milan, anche la sua presa di posizione comunicata attraverso Tom De Mulle che è l'agente al suo club ha fatto una differenza mettendo un po' più con le spalle al muro il Bruges dopodiché oggi o si fa la volontà di chiudere oggi ad ogni costo speriamo che non sia una giornata lunga ed estenuante che non sia una trattativa ancora molto, come dire, densa di novità e che il Bruges comunque, cioè va bene, è un giocatore forte promette benissimo, però con Marco Van Basen che cosa avrebbero dovuto fare? poi ovviamente siamo qui ad aspettare la braccia aperte De Kettler è il nostro speriamo prossimo nuovo acquisto quello più importante sarebbe della campagna acquisti di questa estate tra l'altro lui è anche un po' più avanti a livello di preparazione fisica, atletica perché il Bruges inizierà otto giorni prima il suo campionato è vero che l'ultima non l'ha giocata in Supercoppa ha avuto un'estate un po' di partite fatte e partite non fatte proprio per la questione mercato però ecco sulla carta dovrebbe arrivare un giocatore da punto di vista atletico pronto poi dovrà eventualmente ambientarsi conoscere i nuovi compagni, la nuova realtà il nuovo modo di allenarsi soprattutto un nuovo credo tattico però ragazzo sveglio che speriamo possa arrivare oggi oggi, 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 oggi so che avete già sentito questo oggi o mai più ma oggi è davvero un oggi più che mai non credo che si arriverà domani almeno al Milan dicono che non vogliono arrivare a domani dopodiché, attenzione alla questione difensore vi avevo raccontato un po' di via vai ieri a casa Milan lo sapete movimenti, situazioni, incontri, proposte non era a casa Milan ieri non c'era sua gente però un nome che secondo me è forte, forte De Ketlar è forte, forte, forte lui secondo me è forte, forte per la difesa ne abbiamo già parlato qualche giorno fa Evan Ndika attenzione perché ci sono novità intanto, non l'abbiamo ancora fatto presentiamo meglio il profilo di questo giocatore che è alto 1,92 a 22 anni le farà 23 il prossimo 20 agosto tra un mesetto francese under 21 francese con una partita in Bundesliga ha fatto 104 partite 9 gol e 7 assist anche il vizio del gol ha giocato prima nell'Oxerre in Ligue 2 passando poi appunto in Bundesliga ha fatto il difensore centrale 135 volte il terzino sinistro 17 potrebbe all'occorrenza appunto fare anche l'esterno basso di sinistra appunto qualora non ci fosse Teo Hernandez con caratteristiche ovviamente più difensive ricordiamo però che noi giocavamo anche con con Calazze ecco in passato ecco quest'anno ha fatto 32 presenze 4 gol e 4 assist l'anno scorso 23 presenze 3 gol e 1 assist è un giocatore che ha anche 25 partite in Europa League nonostante la giovanità rispetto quasi 23enne soprattutto è il contatto di scadenza tra un anno 30 giugno 2023 il che significa che o rinnova adesso ma non rinnova o parte tra un anno a zero o parte adesso a cifre però abbordabili la prima richiesta è stata di 20 sono scesi a 15-18 ieri sera il DS dell'Eintracht a proposito della domanda di Capo Andralmina ha detto vediamo cosa succede ammettendo di fatto che c'è una corte del club rosso nero al giocatore che come caratteristiche secondo me sarebbe perfetto è rapido ha un fisico solido bravo nel gioco aereo ripeto anche per l'altezza è bravo anche a impostare è un giocatore che poi può avere margine di miglioramento visto che ripeto non ha neanche 23 anni ha sempre giocato a 3 però ti può adattare benissimo anche a 4 è un mancino tra le altre cose su qualche sito addirittura è alto 1,94 in alto 1,90 noi abbiamo ottenuto da appunto vediamo anche qui allora da Trasjonarte è 1,92 da Sofascore è 1,90 la cosa buona adesso ve la spiego lui ha vinto come gioco aereo il 63% dei duelli 3,5 a partita il 57% dei duelli a terra 2,7 a partita 3 gialli 0 rossi giocatore che tocca 73,3 palle a partita percentuali passaggi riusciti 84% molto buono insomma è molto interessante a me piace molto di più rispetto a Tanganga che comunque accoglierei mi sembra un profilo alla Botman credo che abbia qualche chilogrammo in meno rispetto a Botman però è molto prestante ecco un po' più rispetto a Botman mi sembra che abbia un po' più di rapidità Botman era un po' più lento la cosa interessante è che se Mina riesce a trovare in queste ore l'accordo con il giocatore un patto di ferro può ricattare il line track dicendo o ce lo cedi a 8 milioni di euro perché va in scadenza tra un anno sapete che il Milan non paga 15 un giocatore va in scadenza tra un anno giovane al massimo paga Renato Sanchez quelle cifre oppure lo prendo a zero al primo febbraio l'altra cosa interessante è che con l'antra ci sono ottimi rapporti Andre Silva Rebic ma soprattutto Aughe loro devono dare 12 milioni di euro forse c'è qualche bonus in più al Milan e quindi credo che su quella cifra si possa magari trovare l'intesa anche per Dicà che secondo me ha tutto per affermarsi ad altissimi livelli ripeto comunque molto giovane ha diverse stagioni in Bundesliga da protagonista ha comunque anche diverse partite tante decine in Europa League è un francese e tendenzialmente sui francesi ci dobbiamo fidare di di Moncada tra le altre cose Ballotouré l'abbiamo seguito però ha speso anche molto meno mi sembra che tutti i parametri siano positivi sinceramente quando è stato accostato al Milan per la prima volta ero molto scettico perché pensavo costasse sui 15-20 ignoravo la scadenza tra un anno che può davvero farla differenza chi l'ha visto un po' più vicino mi dice che pecca ogni tanto di discontinuità però ragazzi è un giocatore anche giovane sul quale si può lavorare con l'educazione tattica calcistica per i difensori della scuola italiana secondo me lui può fare margini ulteriori ed è perfetto secondo me nello schieramento del Milan nel senso che serve uno dalle sue caratteristiche di Tanganga vi dicevo secondo me servirebbe uno un po' più alto insuperabile sulle palle alte detto che Tanganga seppur non altissimo 1-84-1-86 è bravo anche sulle palle alte lui mi sembra un po' più adatto al Milan tra l'altro piede mancino e non avremmo altrimenti non avremmo mancini in rosa ditemi cosa ne pensate ragazzi attesa attesissima su De Ketlar e prende sempre più piede l'ipotesi in Dica che per me è forte forte De Ketlar è forte 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 forse 4 forte lui è forte forte ma può diventare davvero fortissimo ci vediamo più tardi per il video speriamo tanto atteso ciao iscrivetevi sul logo di Milan Nero lasciate un like scaricate l'app numero 10 scrivete qui sotto se l'avete scaricato da questo link uno di voi vincere la maglia del Milan della prossima stagione di quelli che hanno scaricato da questo link ciao